Allora Salvatore, questo Catanzaro che coglie i primi punti in trasferta vince 4-2 a Melfi e possiamo dire anche che convince? Tre punti meritatissimi che per come era nata questa settimana per via degli infortuni c'era un po' di preoccupazione, però un Catanzaro che ha giocato un tempo, lo possiamo dire, perché poi ha pensato alla prossima settimana dove avremmo due partite con Matera che ha vinto a Messina e Cosenza che sappiamo tutti dell'attesa che c'è per questa partita, soprattutto da parte dei lupi sconfitti anche oggi. Comunque in ogni caso è un Catanzaro che stranamente era partito bene creando due occasioni con Russotto prima e Martignago dopo e poi come spesso accade nel pallone il Melfi al primo tiro in porta, probabilmente un errore di chi doveva stare sul primo palo, è passato, si è trovato inaspettatamente in vantaggio. Poi il Catanzaro è stato punto e ha realizzato in otto minuti tre gol, tutti di pregevole fattura, specie i primi due frutto di azioni classiche del 4-2-3-1 con gli inserimenti dei centrocampisti e anche l'azione del rigore, Vabbè Vacca lì ha fatto i suoi soliti numeri ed è stato stesso. Quindi un Catanzaro che ha ampiamente meritato il risultato, si è seduto poi nella ripresa, ha fatto anche un pochino fare da protagonista Bindi, però siamo convinti che se il Melfi si avvicinava il Catanzaro si distanziava di nuovo come poi era avvenuto con Barracca e poi alla fine il calcio di rigore dove il Melfi ha trovato meritatamente anche il secondo gol che meritava effettivamente. Sì, come è facile intuire oggi Salvatore non è riuscito ad essere presente a Melfi, chiaramente i commenti sono in funzione della partita che abbiamo visto in televisione, ma abbiamo visto un buon Catanzaro, hai detto bene tu, un primo tempo sicuramente dove la scossa dell'iniziale vantaggio del Melfi poi ha dato il là a quella grande insomma mezz'ora, 20 minuti di gioco del Catanzaro. Forse nel finale abbiamo pagato un po' la stanchezza, abbiamo visto due giocatori, se non vado errato, di Chiara e Vacca con i crampi, forse questo non è un segnale positivissimo in vista degli impegni ravvicinati che avremo come detto mercoledì e domenica. I ragazzi che sono stati a Melfi, i nostri amici, ci hanno detto che come faceva un gran caldo, come d'altronde sta facendo qui a Catanzaro in questi giorni, quindi un po' la stanchezza fisica, un po' vuoi il fatto che tanti elementi nostri non stanno bene fisicamente perché hanno piccoli infortuni, vedi Paciari ha giocato un tempo, poi è entrato Maiorano, anche lui Claudicante, lo stesso Barraco che non è partito dall'inizio, Vacca ha fatto una gran partita, Russotto che alla fine non ne aveva più, giocavamo contro dei giovani come sono i ragazzi del Melfi che avevano dalla loro parte il fatto di volersi mettersi in mostra a tutti i costi e dobbiamo dire che ci sono riusciti perché qualche elemento del Melfi effettivamente ci ha ben impressionati. Mercoledì ci sarà questo impegno, questo turno infrasettimanale, il Matera ne ha rifilati 5 al Messina, sarà un impegno diciamo difficile per gli uomini di Moriero? Allora anche se siamo ancora all'inizio ed è difficile fare delle previsioni però sembra che il campionato si stia delineando tranne qualche sorpresa che è quella della lupa Roma perché stiamo vedendo le squadre di spessore come Catanzaro, la Salernitana, lo stesso Benevento che mi pare giocherà domani che bene o male hanno più esperienze e più tecnica rispetto alle altre. Poi c'è questo Matera che può essere, ma lo sapevamo, ha investito tanto anche la società lucana, può essere una delle sorprese ed è allenato da un allenatore che conosciamo molto bene, che gioca a calcio, fa giocare la sua squadra quindi se domenica e mercoledì dovrebbe esserci veramente una bella partita con un spettacolo garantito perché sono due allenatori che giocano a viso aperto. Noi logicamente ci auguriamo che il Catanzaro in questi tre giorni recuperi i suoi uomini migliori, recuperi la sua forma e se la possa giocare a viso aperto come ha fatto in queste prime quattro giornate di campionato. Perfetto, allora l'appuntamento con la striscia video è per mercoledì, ricordiamo il Catanzaro affronterà il Matera. Arrivederci!